Le leggi le scrive lui, e siccome le leggi le scrive lui, fa quel che gli pare. Voi a casa, andate lui a mangiare le ostriche. Ostriche David Hervé, tartare di salmone, gambero rosso, carpaccio d'ombrina, polpo rosticciato con cif di pane al nero di seppia. Mamma mia, scommetto che negli ultimi giorni non avete mangiato così, non avete mangiato le ostriche, la tartare di salmone. Lui invece sì, lui ha mangiato, ha fatto un pranzo con gli amici, ma non si poteva fare il pranzo con gli amici, ma lui invece ha fatto il pranzo con gli amici. E ha mangiato le ostriche e la tartare. Sì, perché lui è quello, eccoli qui, la tartare e le ostriche, perché lui è quello che le leggi le scrive. E siccome le leggi le scrive, lui le leggi così. Sì, lui chi è? Eccolo lì, si chiama Albino Ruberti, nome e cognome, capo di gabinetto della regione Lazio, la regione di Nicola Zengaretti. E lui il primo maggio è con gli amici, non si poteva, ma lui ha fatto un pranzo con gli amici, le ostriche non possono aspettare. E siccome il pranzo con musica, allegria, è andato un po' per le lunghe, alle 16.30, e quando c'è tante ostriche da mangiare, si arriva alle 16.30, e sono arrivati gli agenti perché facevano un po' di schiamazzi, e quindi i vicini hanno chiamato gli agenti. E' il signore che scrive le leggi, Albino Ruberti, figlio di un ex ministro, uomo potente, e lui che cosa ha detto? Ha detto così. E' un pranzo di lavoro. Pranzo di lavoro, con le ostriche, il primo maggio, la musica, gli schiamazzi, non era credibile. Allora, siccome non era credibile, subito dopo ha dato un'altra versione, questa. E' una piccola concessione dopo 60 giorni di duro lavoro in regione. Eh, lo capisco, il duro lavoro in regione, ma siccome gli agenti che il duro lavoro lo fanno davvero, non gli è passata neanche questa, e niente, hanno deciso di fargli la multa, forse ce l'abbiamo anche proprio fisicamente, la multa donato, falla vedere, eccola lì, Ruberti, Albino, trasgressore. E allora lì a questo punto lui non ci ha visto più, e stando al rapporto, non lo dico io, stando al rapporto, sarebbe arrivato verso gli agenti senza mascherina, e con fare il rispettoso, dice il rapporto, avrebbe detto queste parole. Le leggi le scrivo io, tu non sai chi sono io, sono il capo di gabinetto della regione Lazio. Le leggi le scrivo io, le leggi le scrivo io. Eh, è semplice, le leggi le scrive lui, e siccome le leggi le scrive lui, fa quel che gli pare. Voi a casa, intanto lui a mangiare le ostriche. Allora io dico, io dico, innanzitutto se quelli che scrivono le leggi sono queste, poi capisco anche perché le leggi escano come escono scritte le leggi. Ma poi l'altra cosa che mi manda in bestia, e che continuano a dire agli italiani, siate responsabili, siate responsabili. Gli italiani sono responsabili. Gli italiani sono responsabili, sono quelli che fanno le leggi che non sono responsabili.